Benvenuti a TeleCRU LIS, il notiziario nella lingua dei segni, frutto della collaborazione tra l'Assemblea legislativa dell'Umbria e l'ente nazionale Sordi, Consiglio regionale dell'Umbria. Nella seduta dell'Assemblea del 22 settembre sono state discusse interrogazioni in mozioni presentate dai consiglieri. Questa la sintesi dei lavori. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità una mozione bipartisan per l'adozione urgente delle misure indispensabili per risanare e valorizzare il lago Trasimeno, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste dal Recovery Fund, a firma di Eugenio Rondini della Lega, Marco Squarta, Fratelli d'Italia, Presidente dell'Assemblea legislativa, Simona Meloni del Partito Democratico, Vicepresidente dell'Assemblea legislativa e Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria. La mozione chiede alla Giunta di attivarsi presso il Parlamento e il Governo nazionale per sollecitare l'adozione urgente di misure quali la definizione e la realizzazione dei necessari interventi strutturali volti a stabilizzare definitivamente il livello del lago, in particolare attraverso l'ampliamento del bacino imbrifero, il completamento delle opere di adduzione dal fiume Chiascio e la valutazione della compatibilità dell'immissione diretta delle acque della diga di Montedoglio, la manutenzione delle aree espondali demaniali, l'approfondimento dei fondali e la manutenzione delle rotte di navigazione, il recupero del degrado strutturale delle darsene, degli approdi e l'adeguamento dei bassi livelli, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua, delle opere idrauliche di terza categoria e della linea navigabile, l'intercettazione del trasporto solido e la rimozione dei conoidi, la lotta ai chironomidi. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha respinto la mozione di Andrea Fora del Patto Civico per l'Umbria che chiedeva alla Giunta regionale il coinvolgimento dei rappresentanti delle libere professioni nel processo di partecipazione e di programmazione dei fondi strutturali. L'atto è stato bocciato alla luce di nove voti favorevoli, quelli del Partito Democratico, Meloni, Bettarelli, Paparelli, Bori, dello stesso Fora, di Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, di Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle e dei due consiglieri di Fratelli d'Italia, Marco Squarta e Deleonora Pace. Due gli astenuti, i consiglieri, membri anche della Giunta, Paola Agabiti ed Enrico Melasecche e voto contrario dei sette consiglieri regionali della Lega, Carissimi, Rondini, Pepucci, Nicchi, Mancini, Fioroni e Pastorelli. La mozione di Fora chiedeva l'impegno della Giunta nel quadro della più ampia partecipazione possibile alla riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020 e della nuova stagione 2021-2027 a coinvolgere anche i rappresentanti delle libere professioni ad iniziare dagli ordini professionali. Nonostante la non approvazione dell'atto, l'assessore Paola Agabiti ha precisato che la Giunta rivolge sempre grande attenzione al tema della concertazione e dell'ascolto di tutte le parti interessate, sia nella fase della programmazione che di attuazione dei fondi europei. L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità la mozione sulla mobilità sostenibile presentata dai consiglieri della Lega Daniele Carissimi e Francesca Pepucci, che prevede la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi. L'atto comporta l'adozione di un provvedimento regionale unico che tenga conto delle diverse tipologie di combustibili alternativi al petrolio e le diverse finalità, turistica ma anche scolastica o legata al trasporto pubblico, per poi attuare, mediante i successivi provvedimenti, degli interventi necessari a garantire una mobilità sostenibile alternativa su tutto il territorio regionale. Respinta con nove voti contrari, Lega Fratelli d'Italia e sette favorevoli, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto e Patto Civico, la mozione è proposta dal consigliere Vincenzo Bianconi del Gruppo Misto, con l'obiettivo di attivare presso le società partecipate, sviluppumbi a GepaFin, sportelli che forniscano a titolo gratuito informazioni e assistenza di base alle imprese in difficoltà, a quelle in fase di costituzione, un nuovo orientamento. In aula, l'assessore Michele Fioroni ha detto che sono state fornite alle agenzie regionali linee di indirizzo affinché le aziende, con fattori di debolezza, possano essere accompagnate su sentieri di crescita. Servono strumenti innovativi, come quelli per il rafforzamento delle filiere che stiamo studiando con GepaFin, ha detto Fioroni. Metteremo in campo risorse per la formazione continua degli imprenditori, quelli che devono differenziare le competenze e quelli che devono aggiornarsi. L'Assemblea legislativa ha approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e l'astenzione dell'opposizione, l'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana per il 2020. La Regione Umbria ha rinnovato i patti per la sicurezza di Perugia Eterni, finanziati con 35.000 euro e 25.000 euro. 120.000 euro finanziano i progetti per migliorare la sicurezza dei cittadini, stabilendo dei tetti massimi al contributo regionale in base al numero degli abitanti dei comuni. Ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Università di Perugia per l'aggiornamento della Banca dei Dati Regionale sull'andamento dei dati denunciati. definito un accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione Umbria, sull'interconnessione delle sale operative della polizia locale e delle forze dell'ordine, l'uso in comune dei sistemi di controllo tecnologico del territorio. Anche 25.000 euro agli interventi per l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei fatti criminosi. L'Assemblea legislativa ha deciso anche di rinviare in commissione la proposta di legge del consigliere Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, sulla riduzione delle indennità dei rappresentanti istituzionali della Regione Umbria. È stato lo stesso Bori a proporre il rinvio, dichiarando che quanto accaduto con il referendum ci interroga come rappresentanti istituzionali e la risposta, detto anche da parte nostra, deve esserci. Queste le interrogazioni a risposta immediata discusse nel corso della seduta. La consigliera Francesca Peppucci ha illustrato l'interrogazione, firmata anche dai colleghi della Lega Valerio Mancini, Daniele Carissimi ed Eugenio Rondini, che chiede all'assessore Enrico Melasecchi e gli intendimenti dell'esecutivo circa la ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia e quali azioni si intende mettere in campo per la riparazione dei dissesti causati dal sisma 2016, nonché le misure volte alla valorizzazione dell'infrastruttura a fini turistici come ciclovia ad alta attrattività. L'assessore Melasecchi ha detto che è stata completata la programmazione del consolidamento del tratto Spoleto-Sant'Anatolia di Narco, già pronto il progetto esecutivo per 1,5 milioni di euro, del tratto per Vallo Dinera-Cereto di Spoleto, disponibili 2 milioni e 3 milioni 700 mila euro per Casale-Volpetti-Seravalle. Sono poi in corso degli interventi tra la Galleria San Martino e la stazione di Sant'Anatolia di Narco, 600 mila euro, presi accordi con l'Agenzia per il demanio per il trasferimento dell'ex ferrovia alla regione a titolo gratuito. Ci sono 13 caselli e 8 stazioni da riutilizzare come strutture di supporto alle attività turistiche. Il consigliere Valerio Mancini della Lega ha chiesto all'assessore Coletto di conoscere le motivazioni della mancata trasmissione all'Assemblea legislativa da parte del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale delle relazioni sull'attività svolta e sui risultati ottenuti relative agli anni 2018 e 2019. L'assessore Coletto ha risposto che sono stati chiesti chiarimenti a Garante. La relazione sul 2018 è stata trasmessa il 26 luglio. La relazione sul 2019 è stata trasmessa il 3 agosto. Il Garante, come previsto dalla legge, opera in piena autonomia. Il consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore alla sanità, Luca Coletto, di conoscere l'iter autorizzativo e dei controlli utilizzati dalla regione per l'accreditamento dei centri di diagnostica privati e quanti e quali sono i laboratori privati autorizzati attualmente e quante sono le domande in attesa di risposta. L'assessore Coletto ha risposto che in questa fase è necessario incrementare il numero dei tamponi. Il laboratorio privato non interferisce con la sanità pubblica ma riferisce quotidianamente la situazione per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici di biosorveglianza. Attualmente 5 laboratori privati sono autorizzati e ci sono 6 domande in attesa. In un caso l'autorizzazione è stata temporaneamente sospesa. Il consigliere Fabio Paparelli del Partito Democratico ha chiesto all'assessore Michele Fioroni aggiornamenti sulla procedura di vendita AST e quali iniziative si intendano mettere in campo a tutela degli interessi economici, produttivi, occupazionali. L'assessore ha risposto che occorre sollecitare il governo sul ruolo che deve avere la siderurgia in Italia. L'attenzione è alta sul tema. C'è poi l'aspetto sostenibilità. Entro ottobre verrà pubblicato un avviso con risorse regionali per grandi progetti di tutela ambientale, progetti da 5 milioni di euro, connessi anche con la tutela della salute. La presidente Tesei ha convocato proprietà e sindacati per conoscere lo stato di avanzamento della trattativa e le prospettive. Nella replica conclusiva, Paparelli ha detto di prendere atto che ancora una volta non si risponde. Dovete dire cosa state facendo per la fase di transizione, ha detto, la sicurezza sul lavoro, le scorie. Finalmente, dopo che ho chiesto l'audizione dei sindacati con un atto ispettivo, sono stati convocati in giunta. Mi auguro, ha concluso Paparelli, che serva a fare un passo in più su crisi complessa e altri temi. La consigliera Simona Meloni del Partito Democratico ha interrogato l'assessore Luca Coletto sulla mancata erogazione degli assegni di cura destinati a quanti si trovano a convivere con gravissime disabilità associate o meno a patologie rare. L'assessore ha detto di aver fatto verifiche da cui emerge che le aziende ad oggi stanno erogando i contributi economici a 478 persone, portatrici di gravissima disabilità, dato in aumento rispetto ai 428 del dicembre 2019. È stata nominata una commissione ispettiva interna per accertare eventuali anomalie, omissioni o ritardi nell'erogazione dei contributi. Il distretto del Trasimeno non ha ottemperato le decisioni di erogare i contributi per la gravissima disabilità senza soluzione di continuità. L'azienda si riserva di porre in essere le azioni previste in considerazione dell'ingiustificato ritardo relativamente al distretto del Trasimeno. Infine, il consigliere Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle ha interrogato l'assessore Michele Fioroni sulle infrastrutture tecnologiche da attivare per evitare lo spopolamento delle aree rurali e dei piccoli comuni affinché i territori e le comunità possono essere protagonisti di un nuovo sviluppo. È necessario, ha sottolineato De Luca, colmare in tempi rapidi lo scarto del digital divide. L'assessore ha detto che il Ministero ha comunicato a tutte le regioni che vi sono notevoli ritardi nella realizzazione del piano banda ultralarga, spostando il termine di realizzazione da dicembre 2020 a dicembre 2023. Oltre al tema della banda ultralarga, ha aggiunto l'assessore, abbiamo anche l'importante tema della infrastrutturazione del 5G, che sarà il tema dei prossimi anni. Ricordo che c'è una legge regionale, ha detto, sulla localizzazione degli impianti radioelettrici che rende impossibile oggi qualsiasi forma di sperimentazione sul 5G. La sfida del digitale e della connettività dovrà passare per la revisione o abrogazione di questa legge, che rappresenta un ostacolo poiché pone l'Umbria totalmente fuori dalla grande sfida tecnologica del futuro. Grazie a tutti!